Insieme ai custodi dell'uomo e della terra, l'ambiente e le malattie del neurosviluppo e neurodegenerative. Questo è il titolo del convegno promosso giovedì a nuoro dell'associazione Parkinson in occasione della giornata nazionale della malattia di Parkinson in collaborazione con l'ISD dell'associazione dei medici per l'ambiente. Tra i relatori del simposio, Domenico Scano, presidente regionale di ISDE Sardegna. Siamo qui perché siamo chiamati a dare una testimonianza di tipo scientifico. ISDE fa questo e lo fa anche nell'ambito di un contesto clinico particolare come quello delle malattie del neurosviluppo, quindi quelle che interessano i bambini dai disordini dell'attenzione, del comportamento, il disordino spettro autistico e quelle relative alle patologie neurodegenerative che sono in crescente aumento e che riconoscono al di là di quelle che sono le componenti genetiche che è anche una forte correlazione con fattori ambientali. La situazione in Sardegna da questo punto di vista qual è? La situazione in Sardegna, le do due dati velocissimi perché li ho appena letti e valutati attraverso quegli ISTAT che pratica la pubblicazione come indicatore dello stato di salute della popolazione in Sardegna relativamente alla mortalità infantile che ci fa vedere come tra le prime regioni che hanno ancora una forte percentuale di mortalità infantile e in questo bisogna leggere il dato all'interno di uno scenario globale anche del rapporto ambiente salute e poi quello delle malattie neurodegenerative dove qui la mortalità per malattie legate a forme degenerative, neurodegenerative altrettanto ha un tasso che comunque è superiore a quello della maggior parte delle regioni italiane. Grazie a tutti.